Fratelli e sorelle dell'Arceparachia di Ernakulam Angamali, io sono vicino a voi. Vi seguo da anni, conosco la fede e l'impegno apostolico dell'amata Chiesa Siro Malabarese. Che motivo di gioia e di fierezza per la Chiesa universale! Ed è per questo che il mio cuore oggi è triste mentre vi parlo. Il vostro sinodo, dopo un lungo e faticoso lavoro, ha trovato un accordo nel modo di celebrare il Santo Curbana. La carità e l'amore per la comunione ha spinto i suoi membri a compiere questo passo, anche se alcune di loro non considerano ideale tale forma di celebrazione. Sono i sacrifici che richiede la comunione. Ma la Chiesa è comunione. Se non c'è comunione non c'è Chiesa, è una setta. So che da anni alcuni, che dovrebbero essere esempi e veri maestri di comunione, soprattutto presbiteri, vi spingono a disobbedire e ad opporvi alle decisioni del sinodo. Fratelli e sorelle, non seguiteli. La discussione, quando non è serena, genera violenza. E a voi c'è stata e c'è violenza tra voi, soprattutto contro coloro che vogliono rimanere nella comunione e celebrare come la vostra Chiesa ha stabilito. Anch'io più volte ho esortato ad essere docile alla vostra Chiesa. Come può essere l'Eucaristia se si rompe la comunione, se si manca di rispetto al Santissimo Sacramento tra le lotte e la risse? So che ci sono ragioni di opposizione che non hanno nulla a che fare con la celebrazione dell'Eucaristia e nemmeno con la liturgia. Sono ragioni mondane. Non vengono dallo Spirito Santo. Se non vengono dallo Spirito Santo, vengono altrove. Per questo ho studiato attentamente e con tempo i motivi che da anni vengono adotti per convincermi. Vi ho già scritto più volte in passato, ma so che non a tutti sono state lette le mie lettere. Ora ho deciso di rivolgermi a voi, al Santo Popolo fedele di Dio, al clero, ai religiosi e alle religiose, e soprattutto a voi, cari fedeli laici, che avete tanta fede nel Signore e chiamate la Chiesa. E lo faccio in questo modo un po' inconsueto, perché nessuno abbia più dubbi su cosa pensa il Papa. Nel nome del Signore, per il bene spirituale della vostra Chiesa, dalla nostra Chiesa, vi chiedo di ricomporre questa rottura. E la vostra Chiesa è la nostra Chiesa. Ristabilite la comunione, rimanete nella Chiesa cattolica. E voi, presviteri, ricordate la vostra ordinazione e gli impegni che avete assunto. Non separatevi dal cammino della vostra Chiesa, ma camminate con il Sinodo, i vostri Vescovi, l'Arcivescovo Maggiore. Accettate di mettere in pratica quanto il vostro Sinodo ha stabilito. Vi ho inviato un mio delegato, una persona dell'Arcivescovo Ciril Bassil. È venuto tra voi e anche Lui a mio nome vi ha chiesto di porre fine alla lotta, porre fine alle opposizioni e talvolta alle violenze. Ci sono. Non vedete che così la Chiesa si blocca e tante iniziative di bene non possono più esercitarne al servizio del popolo santo di Dio, al servizio della santificazione del popolo di Dio? Fate sì che per Natale 2023 la vostra Archidiosi si acconsenta umilmente e fedelmente di mettersi al passo col resto della vostra Chiesa, rispettando tutte le indicazioni del vostro Sinodo. Vi prego di essere attenti che il diavolo non vi induca a trasformarvi in una setta. Siete Chiesa, non diventare setta. Non costringete la competente autorità ecclesiastica a prendere atto che siete usciti dalla Chiesa perché non siete più in comunione con i vostri pastori e col successore dell'Apostolo Pietro, chiamato a confermare tutti i fratelli e sorelle nella fede e conservarli nell'unità della Chiesa. Con grande dolore, allora, dovranno essere prese le relative sanzioni. Io non voglio arrivare a quello. Per il prossimo Natale, dunque, nell'Archidio... nell'Archieparchia di Ernakulam Angarmali, come in tutta la Chiesa si celebra il Curbana in comunione, seguendo le indicazioni del Sinodo. Ricordate nella liturgia il vostro Arcivesco Magliore e pregate per Lui. Questo è da sempre un segno importante che vi riconoscete nell'unità della Chiesa. Allora sarà Natale per tutto il vostro popolo, per tutti. Per favore, non continuate a ferire il corpo di Cristo. Non separatevi più da esso. E anche se ci sono stati dei torti nei vostri confronti, perdonateli con generosità. L'Eucaristia sia il modello della vostra unità. Non frattumate il corpo di Cristo che è la Chiesa per non mangiare e bere la vostra condanna. Il Signore vi benedica. Lo Spirito Santo vi illumini. E per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Grazie. Grazie. Grazie.